La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di 1TV, andiamo a guardare insieme i quotidiani di oggi, iniziamo con la città. L'apertura. Cliniche private, 700 posti a rischio, niente intesa con la regione, da lunedì il blocco delle prestazioni. Di taglio alto, Dylan il Nobel al poeta e musica, il racconto della magia nei concerti del grande Bob, a Cava dei Tirreni e Pessum, e poi la scomparsa di Dario Fola, il dio al grande giullare schierato con i più deboli. Centro pagina. Con la fotonotizia, Albanella, Maxi Cracca al caseificio, gli imprenditori di Aminea accusati di bancarotta. Gli articoli di Spalla, Salerno, Fonderie, Cela conferma del sequestro e Battipaglia, Fannulloni ad Alba e rifiuti strada, Lira della sindaca. Gli articoli di Fondo, Eboli, Lacrime per Antonio, il tifoso che visse due volte e lo sport salernitana, San Nino chiede più continuità a Brescia per riconfermarci. Questa la prima pagina. In primo piano, Dario Fola, addio al giullare che divenne Nobel, morto a 90 anni a Milano, era ricoverato da due settimane, il figlio Jacopo rideva fino all'ultimo, è stato un gran finale. Ancora Dario Fola, lui è Salerno, storia che si abbraccia al dileggio del potere, negli anni 70 era ospite del circolo della comune per mettere la sua arte al servizio dei più deboli. Cambiamo argomento, campania, sanità in subbuglio, nelle cliniche private 7.000 posti a rischio, non c'è intesa con la regione, nel salernitano inviate 700 lettere di preavviso, da lunedì blocco delle prestazioni e manifestazione di protesta a Napoli. Le parole di Ottavio Coriglioni, il comparto in campagna assorbe soltanto il 30% della spesa sanitaria complessiva. Gianfranco Camisa, prevede, scusate, previste clausole vestatorie inaccettabili, se non verranno rimosse non sarà possibile firmare i contratti. Di taglio basso, la scura di De Luca sui dirigenti, eliminate 15 posizioni tra capi di partimento e uomini di staff, c'è pure Antonio Oddati. Andiamo avanti, con il Ruggi, uso privato di spazi pubblici disposta a un'ispezione, si inizia a far luce su una consolidata cattiva consuetudine, c'è chi utilizza stanze come se fossero delle dependance. Passiamo all'economia, fisco per i conti all'estero, c'è l'ipotesi del condono. Bersani, sembrano le idee di Fabrizio Corona, smentiti tagli alla sanità, pensioni fino ai 1000 euro, 14esima più ricca tra i 330 e i 500 euro. Passiamo al Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ad Albanella, caseificio, un crack da 7 milioni, sotto accusa 6 imprenditori. Chiuse le indagini per il fallimento della minea che aveva rilevato la nuova contadina. Per gli inquirenti il patrimonio della società di Albanella fu gonfiato, nascondendo le perdite. Siciniano degli Alburni, treni fermati a Siciniano, il sindaco scrive alla Regione. Parco Nazionale, ciao direttore fino a gennaio e Vallo della Lucania, irregolarità nel cantiere, sospesi i lavori, i controlli dei carabinieri e dell'ASL, la ditta ora dovrà mettere in sicurezza l'intera area. E infine Sala Consilina, trasporto urbano, tagli a corse e stipendi. Queste le pagine della città, passiamo al mattino. Che apre con l'era dei Nobel Cantastorie, la morte del grande artista e drammaturgo e la nomina del cantautore riaccendono il dibattito sul senso di un premio. Dario Fola, dio del grande giullare, il medico, ha cantato fino all'ultimo. E Bob Dylan, sul podio della letteratura, ma la sua vittoria scatena polemiche. È vera letteratura? Qualcuno dice sì, è arte che supera i confini e no, poesie che dimenticheremo. Di taglio basso, clan e politica, il PM, 16 anni a Cosentino, la requisitoria al processo Eco 4, il patto mafioso provato dai pentiti. E infine, Olanda, shock, eutanasia senza malattia, la proposta, suicidio assistito anche per chi considera la sua vita finita. Questa è la prima pagina del mattino. In primo piano, Nobel, Bob, Dylan, i tempi sono cambiati, Soccolma premia il rocker e il letterato festeggia sul palco di un casino di Las Vegas. Musica e voce completano un'opera ciclopica, ha influenzato anche i Beatles e il costume. Di taglio basso, l'esperto Alessandro Portelli, che insegna letteratura anglo-americana, dice E quindi la polemica, le parole di De Gregori, non è mai troppo tardi, ma baricco, lui non fa letteratura. Si ripropone quindi, come confo, il dibattito sulla liceità del premio. Andiamo avanti con la politica. Forze dell'ordine, sanità, concorsi per 10.000 posti. Questo l'annuncio di Renzi, sia un turnover parziale, no impiegati come quelli derisi da Zalone. I focus del mattino, legge di bilancio, dubbi sulle coperture, mancherebbero ancora 3-4 miliardi, di rientro dei capitali, critiche da Bersani. Di taglio basso, banche, la BCE, alza il livello minimo di capitale antirischi. Nel Mirino, una trentina di istituti, tra i quali Carige Unicredit, che ha ceduto il 20% di Fineco Bank. Passiamo al referendum. Tregua PD, ma è guerra tra comitati. Renzi ai sindaci, non rassegnatevi al complottismo. Centrodestra, governatori per il no. e Berlusconi, rientrato dagli Stati Uniti. Convocati subito Salvini e Meloni. L'incontro servirebbe a fugare dubbi all'interno di Forza Italia sulla mobilitazione referendaria. L'incontro riecco Casini e Mastella per unire i moderati a Marcorda Benevento, ma l'ex presidente della Camera è per il sì e il sindaco sull'altro fronte. Le interviste a Donofrio e Pomicino. Donofrio, concordo con le riforme tra ex DC, non c'è pensiero unico. Pomicino, sto con D'Alema e quindi mi spaventa il silenzio di molti ex DC. E poi il caso, l'Olanda, suicidio assistito anche a chi è sano, il governo al lavoro per una legge che stende l'eutanasia a chi ritiene finita la propria vita. L'intervista al professore Dallapiccola che dice Nella bioetica è saltato ogni limite, ecco perché bisogna porne un freno. I medici sono vincolati al giuramento di Ippocrate. E il mattino di Salerno. L'apertura a fonderia è vietata la riapertura. Il GIP bocce il ricorso dei Pisano, no alla ripresa parziale dell'attività negativa, la valutazione delle analisi dell'ARPAC, più concreto il licenziamento per i 120 dipendenti. Lo scenario quindi delocalizzazione dello stabilimento, strada in salita. Gli articoli di fondo, assedio alla Caris, al goffo colpo di mano, l'attacco, forzature sullo statuto. Il caso Ravello Fest, prova di forza, ora chiarezza sugli atti. Centro pagina, sanità privata, c'è intesa con la Regione, vertice con il governatore De Luca sui contratti, ma i sindacati non revocano lo sciopero. E poi il lutto, la memoria, Dario Foco e gli anni a Salerno. E di taglio basso la Salernitana. Sannino gioca a carte coperte col Brescia. Queste le pagine del mattino. Andiamo a guardare la prima pagina della nuova. Che apre con tutti al tavolo della spartonza. Mentre i Lucani restano in attesa dell'ultimo accredito, in Regione si dividono i soldi dell'ex card benzina. Pittella convoca sindacati e parti datoriali sul tavolo, scusate, circa 200 milioni, 90 per il reddito minimo. Centro pagina, la polemica in carico a scaglione, leggeri da noi chi va a processo per presunti legami mafiosi viene premiato. E poi binario morto, Freccia Rossa, Matera Ferrandina, Piano, Ferrovie dello Stato, la Presidente di Rete Ferroviaria Italiana preferisce un no comment. Ancora centro pagina, disabili lasciati a casa, Matera, l'Aias sospende la semiresidenzialità. E poi dal 2008 a oggi, boom di voucher da 200 mila a 500 mila. E vertenza Natuzzi, proteste al mese per i 355 licenziamenti. E poi Pittella, Meloni, scintille a Matrix, con l'accoglienza a migranti, una sostituzione etnica dei Lucani. Dettaglio basso, lo sport, Lega Pro di Lorenzo di Chiara, Lungo Amore al Matera per l'AB, ancora Lega Pro, Lanzaro, Damessi a Cristiano Ronaldo alla salvezza del Melfi. Infine serie D, offerti 131 mila euro a B&B per tutto il Potenza. Questa era la prima pagina, la nuova con cui si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Proseguiamo con le pagine di Metropolis. Che apre con le fonderie, non riaprono. Il giudice rigetta il ricorso, immissioni di fumi intollerabili e molesti per i residenti. Respinda l'istanza quindi dei Pisano, la fabbrica resta sotto sequestro. Sotto la testata, Salerno, l'ospedale adesso chiede i danni, il manager cantone subito i lavori, altrimenti faremo richiesta di risarcimento alla ditta. Centropagina, il fatto, gli ultras della Casertana volevano assaltare i cavesi, la polizia sventa l'agguato e sequestra delle spranghe. Salerno, pizzaiolo con la cocaina, arrestato e rilasciato il 21enne Massimo Sica. Lo sport, serie B, Brescia-Salernitana, benvenuti al nord. La vigilia quindi, Sannino cambia e Rosino rischia. E il lutto, addio ad Antonio, Eboli è in lacrime. Si è spendo in verso all'età di 35 anni. Cava, morte in corsia, medico nei guai. Eboli, donna pestata dal compagno, preso un 51enne. Rocca d'Aspide, cadavere in un pozzo. Questa è la prima pagina di Metropolis. In primo piano. Rivolta in tribunale a Napoli, guerra anche con i sindacati, lavoratrice punita per l'email. Illecito contestato dalla Will a chi ha criticato le sigle istituzionali, in 200 partecipano al corteo che blocca il centro direzionale. Andiamo avanti. L'affondo del PM contro Cosentino va condannato a 16 anni. L'ex sottosegretario all'economia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, il magistrato. In Italia non ci sono processi più gravi. Lasciamo questa pagina e passiamo alla politica. De Luca ora alza la voce, si firmino subito i contratti. Il governatore invia una nota alle strutture private e sindacate ai direttori delle ASL fermare le procedure di mobilità per i dipendenti. La scadenza è il 15 ottobre e intanto c'è per il 17 ottobre lo sciopero dei lavoratori della sanità privata. Di taglio basso l'intervento, Forza Italia attacca il commissario. I suoi decreti sono illegittimi. Passiamo all'inchiesta, niente sconti per le fonderie, la fabbrica resta sequestrata, il giudice rigette il ricorso dei Pisano, emissioni di fumi intollerabili e molesti per i residenti. Il sit-in davanti al tribunale, presidio tra cartelloni e battimani, l'inutile attesa degli operai sfiniti. Queste le pagine di Metropolis, passiamo alle cronache. che apre con fonderie, restano i sigilli, il GIP prespinge il ricorso dei Pisano, confermato il sequestro nelle motivazioni, emerge la presenza di fumi nocivi per i residenti. Centro pagina, è morto Dario Fo, il soccorso rosso dell'assassino di Carlo Falvella. Realizzò un libricino e scrissi articoli per difendere l'anarchico Giovanni Marini alla sbarra per il delitto del giovane Messino. Gli articoli di fondo, scomparso l'ultracioccolatino, scuole a pagani, genitori infuriati contro Bottoni, dietri sul mare, serritiello comune al dissesto. E infine, grande Pompei, bilancio positivo. Questa è la prima pagina. In primo piano, verso il referendum, Salvatore Bottone, il civico di destra, che vota sì al referendum. Il primo cittadino di Pagani scende in campo a favore della riforma. Dice, parliamo di cambiamento e poi ci tiriamo indietro. Gianfrango Lamberti, nonostante la mia significativa storia, le mie origini partigiane, la mia iscrizione all'Ampi, sono fermamente convinto del sì, ma rispetto chi non è favorevole. Giuseppe Pisapia, scenderò personalmente in campo per la battaglia referendaria del sì, tante le motivazioni che mi spingono a farlo, soprattutto quelle a livello nazionale. E infine, Pino Palmieri, eleggere senatori e consiglieri regionali significherebbe dargli troppo potere legislativo, riduzione dei costi irrisoria, per questo voterò no. Cambiamo argomento. Gioglio Telco, i fondi persi e il rischio di non costruire con il piano Boigas, la ristrutturazione dell'albergo aveva ottenuto i fondi statali e dal Monte dei Paschi. Poi il cambio è voluto da De Luca, ora la Sist non ha ancora il permesso a costruire. Cambiamo argomento. Questo scherzo da prete di Cantarella, la caris al tagli poste alla Camera di Commercio, al Comune e alla provincia scoppia la polemica. Annunciati ricorsi per vie legali e perfino alla Corte dei Conti. Infine passiamo al nostro territorio. Macro Regioni è dall'unità che se ne parla. Anche Parisi vuole ridisegnare i territori italiani. La Basilicata ha meno abitanti di un quartiere di Milano. La proposta di riforma tornò di moda nel 1992 con la Fondazione Agnelli che voleva dividere il territorio in 12 regioni. Trasporti, chiesta la riattivazione della Sicignano-Lago Negro. Salerno-Reggio Calabria, limitazione alla circolazione, lavori sul tratto Lago Negrese. Sala Consilina, il gruppo positivo di cesia all'incontro con il sindaco Cavallone. Pertosa, omicidio Pancella, l'assassino è libero. E infine Vallo della Lucania, sequestrato un cantiere sulla strada statale 18. Queste le pagine di Le Cronache con cui si chiude la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro buona giornata.